Welcome to this side-by-side compare between the Artur Laser Master II and Atomstack A5 laser engraver. These are two engraver of the same price range and with very similar characteristics, but which hide some small differences. Both equiped with 20W laser can work on a surface of about 40 by 45 cm. Let's start with Artur Laser Master. Usually equipped with 20W fixed focus laser, it offers the possibility to buy alternatively a 15W or 7W laser with adjustable focus. The engraver is equipped with limit switches to allow automatic adjustment of the starting zero point. The laser focus is at fixed distance of a couple of cm from the workpiece. A multi-hole plate allows you to adjust the laser head at different heights. It is possible to check the correct focus with a small spacer block supplied with the engraver. Artur is equipped with 32 bit control board with some additional safety features, such as stopping the laser safely if something gets stuck on the computer. The machine arrives complete with everything you need to assemble it and for the first use, including a pair of laser safety goggles. Let's talk now about Atomstack A5. We immediately note the protective screen that makes the use of safety glasses superfluous. A very nice ruler is engraved on the axis and allow an approximate positioning of the laser in the workspace. The machine is entirely made of metal. And some parts are double-sided, making the whole assembly very solid and stable. There are no electronic limit switches but mechanical lock that allow you to manual align a realable zero position. Focusing on this engraver is very simple. Position the supply spacer on the workpiece, then lower the laser head until it's positioned, and then tighten the two screws. We perform the same job with this machine, so we can compare the result. The laser is equipped with a cone to guide the cooling guard flow and pump the foam out of the laser harness. The device occurs at this location in the center of the laser. Il risultato è molto simile, essendo macchine della stessa categoria. Ora arriviamo ad un compagno rapido tra l'attività effettiva dei due laser. Il modulo Ortur 20 W absorve 24 W di corrente, in linea con l'attività elettrica. Dal punto di vista optico, l'attività è di 5.1 W. Il modulo Atomstack 20 W è anche di circa 24 W di potenza elettrica, con più o meno la stessa potenza optica. Questo mi fa pensare che usano una soluzione tecnica molto simile. Le potenze sono in linea con l'attività di manufattura. E' un'attività principale che differenzia questi due Se vuoi comprare una di queste macchine, ti dico in commento il link a un compagno con il miglior prezzo. Ciao a tutti e grazie per aver guardato il mio video. Qui con me ho il nuovo Atomstack A5 Pro. Un nuovo ingraverso del 2021 con un modulo di laser migliorato. Quindi attivate le notificazioni e seguite il mio canale perché ho una nuova review per te. Grazie a tutti.